Lunedì scorso 14 settembre al Vittoria Parcotelle di Palese è stata convocata una conferenza stampa per l'introduzione del nuovo corso di aggiornamento teorico-pratico sulle tecniche attuali in vulnologia. La responsabile del progetto, la dottoressa Angela Garruba, in questa occasione ha ancora una volta sottolineato l'importanza di tale aggiornamento, proprio in relazione al fatto delle tantissime novità in merito al trattamento delle ulcere che con le nuove tecnologie spesso si tramutano in migliorie per ciò che concerne i risultati sia in termine terapeutico che in termine estetico. Abbiamo chiesto alla responsabile quali saranno le basi della scuola di formazione giunta quest'anno alla quarta edizione. Principe di questa scuola di formazione e di cui io sono responsabile scientifica è proprio l'ulcera, l'ulcera cutanea intesa come una espressione di malattia per cui questa scuola non si limita solo a un approccio teorico e ribadisco e sottolineo pratico dell'ulcera ma anche a un coinvolgimento dell'intero paziente perché l'ulcera appunto essendo un'espressione di malattia è un'espressione di come sta il paziente, quindi il nostro protagonista è il paziente portatore di ulcera. Il primo appuntamento è fissato per il 26 settembre prossimo, sempre al Parco Hotel di Palese e prevederà il rilascio di 50 crediti formativi a completamento del progetto destinato non soltanto ai medici. Questo progetto è rivolto a tutti gli operatori sanitari, a tutti coloro di tutta la regione e anche fuori regione sarebbe auspicabile che in maniera realmente pratica vogliono specializzarsi, formarsi nell'ambito della vulnologia, quindi dagli os ai farmacisti, ai terapisti del dolore, ai medici delle varie provenienze, agli infermieri, cioè a tutta la categoria sanitaria. L'organizzazione dell'evento è stato affidato anche questa volta, come il congresso dello scorso anno, alla MCO Organization di Margherita Campanella di Castellana Grotte, da sempre attenta alla professionalità nello sviluppo di queste iniziative mediche e non solo.